Rivive a Prato la Peligna il fascino della tradizione di Sant'Antonio a Bata. Le festività organizzate dall'Arci Confraternia della Santissima Trinità e dal Comitato Vesteggiamenti 2016 avranno inizio sabato 16 alle ore 17 presso la Chiesa di San Pietro Celestino Quindola dove partirà il gruppo dei cantori che rappresenteranno le tentazioni di Sant'Antonio fino a tarda serata. La compagnia sarà formata dai membri dell'Arci Sodalizio, del Comitato e della popolazione in generale che accompagneranno con canti e musiche tradizionali i due confratelli travestiti da Satana e dal primo abate della storia. I figuranti gireranno per le strade del paese non solo, raccogliendo viveri che andranno in beneficenza alle famiglie in difficoltà di Pratola. Alle ore 18 ci starà l'esposizione della statua del Santo con successiva celebrazione eucaristica. Domenica 17 alle ore 15 l'immagine dell'abate verrà portata in Piazza Garibaldi per la consueta benedizione degli animali domestici e dei mezzi agricoli da lavoro. Al termine verrà acceso il fuoco di Sant'Antonio e ci sarà un momento conviviale per passare un momento di gioia e felicità tutti insieme. L'Arci Confraterni del Comitato invitano tutti a prendere parte alle celebrazioni in onore di uno dei santi più amati e più importanti della zona.